Illumination Days 2024, GRIVIO! Dai che ci siamo, il signore degli impianti! Ma che cosa si sono inventati quest'anno! Signori, due giorni intensi di formazione! Ma che dico formazione? Sarà un viaggio epico! Un viaggio per aprirvi la mente sull'importanza nei vostri impianti e sul prestigio della figura dell'elettricista illuminante. Ma non poniamo altro tempo in mezzo! Direi che possiamo invitare qui gli occhi azzurri con la normativa intorno un amico, un fratello Alessio Diamonti! Alessio Diamonti!